Purtroppo la situazione in Lombardia non sta migliorando, ma anzi i contagiati continuano ad aumentare. Abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di medici, di infermieri, abbiamo bisogno di respiratori. Io devo dire che si è già mossa una grande solidarietà. Credo che grazie all'aiuto che tutti ci potrete dare riusciremo a realizzare questo nuovo grande ospedale dedicato esclusivamente ai malati di Covid-19 e riusciremo a dare a tutti una possibilità di essere opportunamente curati. Grazie.